Musica Giustizia dalla 2 maggio, la raccolta firme delle camere penali per la separazione delle carriere. Padula dal 12 al 14 aprile, il corso sul codice di appalti e centrale unica di committenza. Salerno, l'Ateneo Salernitano tra le 100 migliori giovani università del mondo al The Young University Summit si classifica al 71esimo posto su 400. Sant'Arsenio dalla Banca Montepruno, non edizione del bando per l'assegnazione delle borse di studio. Buon abitacolo successo per l'evento dedicato alla natura promosso dall'Associazione Fermento. Buonasera, ben ritrovati all'edizione serale delle Uno News. Apriamo dalla giustizia, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. È uno degli argomenti più prognanti in questo momento quando si parla di giustizia. A partire dal prossimo 2 maggio avrà inizio la campagna di raccolta firme per scindere le due carriere. Su questo argomento Pietro Cusati ha intervistato per noi il presidente della Camera Penale dei Marsi, con l'Avvocato Enzo Bonafine e l'Avvocato Ennio Amodio, professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Milano. Partirà il 2 maggio in tutta Italia questa iniziativa fortemente voluta dall'Unione. Ci rendiamo conto che il momento storico che attraversiamo non è dei più propizi per portare avanti quella che è una battaglia di civiltà nella quale l'Unione delle Camere crede fermamente. Tuttavia, come tutte le battaglie che si ritiene doveroso fare, vanno fatte al di là delle difficoltà di cui siamo perfettamente consapevoli. separare le carriere è uno dei punti fermi per una giustizia in cui il magistrato sia vero arbitro, terzo rispetto alle parti, equidistante e quindi garantirne l'imparzialità e l'indipendenza. È una battaglia giustissima che spero alla fine possa portare al traguardo di una vera separazione fra la carriera del pubblico ministero e quella del giudice. Non si può pensare di realizzare un processo accusatorio senza che il pubblico ministero venga tolto da quel piedistallo che gli dà una supremazia proprio perché anche dal punto della carriera e della progressione della sua vita professionale è vicino ai giudici. Ciò che la Costituzione chiede è la terzietà dei giudici e la terzietà significa distanza fra chi deve giudicare e chi deve investigare. E cambiamo decisamente argomento. In questi giorni si sta tenendo a Padula organizzato dalla comunità montana Vallo di Diano un corso sul nuovo codice degli appalti e la centrale unica di committenza. Ma vediamo di cosa si tratta nel servizio. La comunità montana Vallo di Diano ha organizzato a Padula un corso teorico pratico di tre giorni, 12-14 aprile, sul nuovo codice degli appalti relativamente al decreto legislativo numero 50 del 2016 e la centrale unica di committenza. Il legislatore ha stabilito che i comuni, non capoluogo di provincia, per acquisti di beni, servizi e lavori, devono far ricorso alla centrale unica di committenza che è una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica. L'obiettivo è ridurre il numero dei soggetti che generano domanda di lavori, beni e servizi, eliminare i costi inutili connessi alla frammentazione tra i piccoli comuni della fase procedimentale di acquisizioni e razionalizzare quindi la spesa pubblica. I comuni possono accorpare i procedimenti presso un'unica struttura o attraverso un accordo consortile oppure, e questa è l'opzione a cui il legislatore ha dato priorità, nell'ambito delle unioni dei comuni, come può essere ad esempio una comunità montana. Nel caso del nostro comprensorio, la centrale unica di committenza, Comunità Montana-Vallo di Diano, è stata istituita con deliberazione del Consiglio Generale numero 2 del 19 febbraio 2015 e ne fanno parte per ora i comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, Padula, Sant'Arsenio, San Rufo, Sanza e Teggiano. I singoli comuni non hanno più dunque la qualifica di amministrazione aggiudicatrice, ma centralizzano i procedimenti di acquisto di forniture, beni e servizi presso la centrale unica di committenza. Il corso che si sta svolgendo in questi giorni a Padula è finalizzato proprio a chiarire agli addetti ai lavori e rivolto infatti agli amministratori e dipendenti dei comuni aderenti la normativa vigente sulla materia. E su questo importante appuntamento ascoltiamo anche le parole del Presidente della Comunità Montana-Vallo di Diano, l'architetto Raffaele Accetta. Sì, la comunità montana come è noto da un po' di tempo è centrale unica di committenza ed è riuscita a mettere insieme al momento 10 comuni su 15 del territorio proprio per questo aspetto importante e particolare dell'appalto di servizi e di forniture e di opere. E quindi si è pensato di fare anche un corso di aggiornamento per tutti i tecnici che sono quotidianamente impegnati alle prese con problemi che riguardano nei propri comuni l'appalto di forniture e servizi perché è una materia abbastanza complessa con una legislazione che muta continuamente e che naturalmente mette anche un po' in difficoltà gli enti allorquando devono procedere con questi appalti. Allora ecco, per dare anche seguito a quello che è un po' la missione della comunità montana cioè quello di anche tenere insieme i comuni, uniformare anche le procedure e soprattutto in questo caso mettere a disposizione dei comuni e degli uffici tecnici anche una modulistica che può essere utile e che sia appunto unitaria io credo che insomma è stato utile proporre al territorio questa tre giorni sarà una tre giorni intensa di lavoro che i tecnici faranno insieme al relatore che è il dottore Lino Bellagamba, un esperto in materia di appalti e che appunto insomma si confronteranno con lui e si confronteranno tra di loro perché ci sarà anche una parte di appunto confronto oltre che di ascolto di quello che sarà insomma la relazione. Andiamo ora a Salerno, ogni anno viene estilata una speciale classifica per individuare le giovani università attive da meno di 50 anni che in termini di qualità di servizi formativi e di iscritti risultano migliori un grande risultato ottenuto dall'Università di Salerno che per la prima volta si posiziona all'interno delle prime 100 posizioni in particolare raggiunge la 71esima posizione tra le 400 università di tutto il mondo. L'Università di Salerno entra di diritto e prepotentemente nella classifica delle 100 migliori giovani università del mondo. Nei giorni scorsi in Australia e precisamente a Brisbane si è svolta la premiazione degli Atenei nati negli ultimi 50 anni che si sono maggiormente distinti per qualità e numeri. Su circa 400 Atenei scelti tra i migliori del mondo l'Unisar rientra tra i primi 100 occupando già la sua prima apparizione il 71esimo posto e scalzando altre università italiane che invece hanno fatto registrare una lieve flessione. Il magnifico rettore Aurelio Tommasetti è stato ospite in Australia dove ha potuto parlare della sua università ricordando anche i recentissimi successi come il valido contributo che l'università sta offrendo alla ricerca e alla lotta al terrorismo grazie al nuovo sistema sviluppato proprio dal Dipartimento Multidisciplinare di Scienze Aziendali dell'Unisar e da un gruppo di ricercatori e laureati coordinati dal professor Vincenzo Loia che hanno creato il sistema in grado di analizzare velocemente decine di migliaia di pagine all'ora. Un sistema attualmente utilizzato in via del tutto sperimentale dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La qualità dell'offerta formativa così come la struttura dell'Ateneo e i servizi offerti al suo interno hanno consentito per la prima volta all'Università di Salerno di entrare nella classifica internazionale del Young University Summit migliorando anche il bilancio dell'Italia in questa speciale classifica che vede predominare per qualità sedi universitarie dell'Oriente. È un grande risultato per noi, settantunesimi al mondo tra le università con meno di 50 anni, i quinti in Italia e addirittura tra i 10 e le 10 italiane siamo rinunciati con il maggior numero di studenti. Un risultato importante che premia gli sforzi che stiamo conducendo sulla ricerca infatti siamo esprimati con l'indicatore della ricerca che è coerente rispetto ai risultati che abbiamo avuto in termini di valutazione della qualità della ricerca e di maggiori fondi a livello nazionale del Ministero ed è anche coerente con i ranking nazionali che ci pongono al primo posto con l'Università del Centro-Sudo. Seppur la migliore risulta all'Università di Lausanne in Svizzera il secondo e terzo posto sono occupati rispettivamente da un'Università di Hong Kong e da una di Singapore. Tra le prime 100 entrano 10 università italiane con la prima ad apparire nella classifica che è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Al 42esimo posto l'Università di Bolzano al 51esimo un successo del Sud con l'Università della Calabria che si prende il posto della Bicocca di Milano che scende alla 55esima posizione. Al 71esimo posto l'Università di Salerno mentre le altre università italiane alcune delle quali in discesa rispetto agli anni passati sono l'Ateneo Roma 3 scivolata al 72esimo posto all'81esimo posto l'Università di Verona quindi Torvergata, Bergamo e Brescia. Rientriamo nel Vallo di Diano andiamo a Sant'Arsenio dove è in corso di costituzione una nuova associazione denominata Osare Officina Sant'Arsenese di aggregazione rinascita ed educazione politico e culturale che in vista delle prossime elezioni amministrative punta ad un maggior coinvolgimento nella politica del Paese. Nasce una nuova associazione a Sant'Arsenio che preferisce definirsi un laboratorio di idee un centro di aggregazione dove è possibile esprimere i pareri e aperto al confronto tra cittadini in modo da permettere a tutti di partecipare attivamente alla vita e ad un progetto di sviluppo del Paese. Osare è il nome dell'associazione acronimo di Officina Sant'Arsenese di aggregazione rinascita ed educazione politico-culturale il progetto nasce con l'idea precisa di offrire una svolta verso il cambiamento superando quindi l'attuale clima di incertezza e divisione che invece si sta registrando a Sant'Arsenio. Questo almeno quanto riferito dagli ideatori del progetto su cui si stava già da tempo lavorando e che a seguito anche degli ultimi accadimenti nella vita politica del Paese si è ampliato con un'intensa partecipazione che ha permesso così di costituire il gruppo Osare in attesa della Costituzione dell'Associazione. L'amore per il nostro Paese fanno sapere i riferenti del gruppo ci ha spinto ad aprire un confronto su temi importanti inerenti anche alla vita politica di Sant'Arsenio e scegliere di velocizzare l'iter per il processo di aggregazione. A poco più di un mese dalle prossime elezioni amministrative l'ambizione di Osare è quella di discostarsi dai personalismi e focalizzare la discussione sulla comunità di Sant'Arsenio che necessita di una squadra di uomini e donne libere, competenti e possibilmente con le qualità necessarie a prendere importanti e responsabili decisioni per il Paese non più rinviabili dedicando il massimo impegno alla ricerca di soluzioni sostenibili attraverso idee e progetti innovativi. L'officina Sant'Arsenese spiegano evitando di arrivare all'ultimo momento a dover scegliere soluzioni preconfezionate o a decidere tra nuovo senza esperienza ed esperienza senza novità preferisce l'insieme, la condivisione di valori unificati la qualità delle idee. Osare vuole anche essere la fucina dove far crescere i giovani facendo maturare in essi una vera consapevolezza civica superando gli errori del passato che avevano portato ad allontanare chi aveva capacità e idee dalla vera partecipazione. Questa è la volontà del gruppo che invita l'adesione e la partecipazione alle iniziative invitando anche ad evitare personalismi e polemiche improduttive. Ripartiamo dall'ascolto dichiarano dal gruppo elaborando una proposta condivisa e rimettiamo al centro della discussione politica le questioni, le persone, il nostro Paese. Spostiamoci a Teggiano anche l'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Michele Di Candia ha aderito al bando della regione Campania per l'installazione nei comuni di impianti di compostaggio. Anche a Teggiano potrebbe arrivare la compostiera di comunità anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Di Candia ha infatti aderito al bando promosso dalla regione Campania per l'assegnazione delle compostiere di comunità impianti di compostaggio dove i cittadini potranno sversare i propri rifiuti organici in qualsiasi momento e che lo stesso impianto trasformerà quindi in compost da utilizzare per la concimazione di aree pubbliche o comunque messo a disposizione delle utenze che ne faranno richiesta. L'istanza è datata 29 marzo ed è stata inviata alla regione Campania per la partecipazione al bando prevedendo la richiesta di una compostiera della capacità di 80 tonnellate che sarà posizionata sul territorio comunale in area facilmente accessibile a tutti i cittadini. Anche il comune di Teggiano risponde quindi al bando regionale che prevede l'installazione per la massima copertura territoriale degli impianti di compostaggio impianti con medie dimensioni destinati a servire alla sola comunità che ne farà richiesta. Non a caso, nella partecipazione al bando è necessario anche fornire le giuste indicazioni in merito alla popolazione e alla quantità di rifiuti organici prodotti. Le richieste delle compostiere di comunità infatti deve coprire il solo fabbisogno del territorio comunale. L'amministrazione di Teggiano ha ritenuto sufficiente l'installazione di un solo impianto della capacità di 80 tonnellate che dovrebbe essere posizionato nei pressi del depuratore comunale in località Razzi. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco con il resto delle nostre notizie. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News riapriamo con il bando pubblicato sul sito della Banca Montepruno per la sediazione delle borse di studio per i soci e figli di soci dell'Istituto di Credito Cooperativo. Il bando è giunto alla nona edizione e quest'anno, vista la fusione con l'ex BCC di Fisciano, sarà ancora più ricco di premi. La Banca Montepruno diventa una realtà sempre più consolidata nel panorama bancario del mezzogiorno ma nelle sue finalità continua a manifestare la sua vicinanza ai giovani continuando a premiare chi con dedizione si applica allo studio riuscendo anche ad ottenere importanti risultati. È stato infatti pubblicato il bando per la nona edizione dell'assegnazione delle borse di studio destinate a soci e figli di soci è nato dalla collaborazione con il Circolo Banca Montepruno presieduto da Aldo Rescinito e l'Associazione Montepruno Giovani con Presidente Giuseppe Nese che quest'anno sarà ancora più ricco. L'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese ha da sempre manifestato un forte attaccamento ai giovani visti come la speranza per un futuro sviluppo del territorio. In momenti particolarmente complicati sia dal punto di vista dell'occupazione ma anche di crisi economica il riconoscimento anche di un piccolo premio può avere un immenso valore in termini proprio di stimoli. Vedere che qualcuno riconosce i propri sforzi e li premia può infatti offrire quell'input necessario per andare avanti e credere nelle proprie possibilità nel proprio lavoro e soprattutto nella propria terra spingendo così i giovani ad investire le proprie competenze sul territorio. Da qui l'Istituzione del Bando per l'assegnazione delle borse di studio che in questi nove anni ha permesso di comprendere le immense potenzialità ed eccellenze che può esprimere questo territorio. L'iniziativa quest'anno sarà ancora più ricca visto anche la recente fusione con la ex BCC di Fisciano. Saranno 45 le borse di studio messe a disposizione dalla Banca Montepruno così divise. 10 borse di studio del valore di 150 euro ciascuna per diplomati delle scuole secondarie superiori che risiedono nel territorio di competenza della ex BCC Montepruno di Roscigno e Laurino. 10 borse di studio del valore di 150 euro ciascuna per diplomati delle scuole secondarie superiori che risiedono nel territorio di competenza della ex Cassa Rurale d'Artigiana BCC di Fisciano. 10 borse di studio del valore di 250 euro ciascuna per laureati che risiedono nel territorio della ex BCC Montepruno di Roscigno e Laurino. 10 borse di studio del valore di 250 euro ciascuna per laureati che risiedono nel territorio della ex BCC di Fisciano. Quest'anno inoltre il bando prevede anche un'altra sezione dedicata a laureati che hanno discusso tesi trattando come argomento la Banca Montepruno. Tale sezione prevede 5 borse di studio del valore di 200 euro ciascuna. Le domande di partecipazione possono pervenire presso una delle filiali della Banca Montepruno secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre l'8 maggio 2017. La premiazione avverrà durante l'Assemblea annuale dei soci del Circolo Banca Montepruno prevista nel mese di maggio. E andiamo a Buonabitacolo. Grande successo e grande partecipazione all'evento promosso dall'Associazione Fermento Buonabitacolo che lunedì scorso ha coinvolto i bambini delle scuole elementari nella messa a dimora di piantine di castagno sul Monte Carmelo. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Grande successo per l'iniziativa dell'Associazione Fermento Buonabitacolo che lunedì scorso ha accompagnato i bambini delle scuole elementari sul Monte Carmelo dove ai piccoli sono state consegnate piantine di castagno che hanno poi messo a dimora. Un'iniziativa finalizzata anche ad alimentare nei piccoli buonabitacolesi l'amore per la natura e per la propria terra. Lunedì scorso i giovani dell'Associazione presieduta da Luigi Parascandolo hanno avuto modo di trascorrere una splendida mattinata sul Monte Carmelo accompagnati in questo viaggio alla riscoperta della natura dal Vescovo della Diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca. L'iniziativa denominata Plan for the Planet ha visto i giovani dell'Associazione Fermento Buonabitacolo e i piccoli alunni delle scuole elementari raggiungere le cime del Monte Carmelo dove Monsignor De Luca ha celebrato la Santa Messia che ha dato inizio alla giornata dedicata alla natura a seguire sono state messe a dimora le piantine di castagno simbolo di abbondanza da parte dei piccoli alunni accompagnati dai docenti delle scuole dopo aver ricevuto anche una spiegazione sull'importanza della salvaguardia dell'ambiente un modo per sensibilizzare i piccoli a diventare i custodi del creato e perché la giornata con i suoi insegnamenti possa essere ricordata e il ruolo di protettori della terra dei piccoli possa essere sempre ben chiaro e resta indelebile durante la mattinata a tutti i bambini sono stati consegnati degli attestati di adozione dell'albero di castagno una giornata dedicata alla cura dell'ambiente e alla sensibilizzazione verso il tema che ha anche però regalato momenti di grande divertimento l'iniziativa dell'associazione Fermento Buonabitacolo ha così consentito anche di riscoprire la bellezza della natura e dello stare insieme lontano dalla tecnologia proseguiamo nasce una importantissima partnership commerciale che vede protagoniste due realtà turistiche l'oasi Fiume Alento e le grotte di Pertosauletta tariffe agevolate per i visitatori dei due siti le grotte di Pertosauletta e l'oasi Fiume Alento da tempo promuovono le loro attività reciprocamente nei confronti del mondo della scuola e del turismo scolastico e da quest'anno hanno deciso di collaborare in maniera fattiva anche su altri target come quello del turismo naturalistico in quest'ottica è nata l'operazione di partnership commerciale che vede impegnati entrambi gli attrattori con l'offerta di ingressi a tariffe davvero agevolate per i visitatori che potranno avvalersene conservando i biglietti acquistati presso uno dei due siti e presentandoli all'ingresso dell'altro un'idea semplice ma utile a promuovere due realtà turistiche diverse accomunate da due elementi caratterizzanti l'acqua e l'intraprendenza e l'orientamento verso le qualità dell'offerta che mette in campo chi le gestisce tale partnership commerciale si basa sulla consapevolezza dell'importanza di fare rete e creare un sistema che funzioni nella sua globalità e non solamente per un singolo operatore un singolo servizio una singola prestazione la ricetta per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in chiave turistica passa attraverso un intero territorio le grotte di Pertosauletta quindi la fondazione Mire e l'Oasi Fiume Alento intendono così lavorare sinergicamente superando campanilismi e personalismi per legare le due realtà individuando caratteri di unicità e puntare su questi aspetti per un maggiore sviluppo del turismo naturalistico e con questo servizio termina l'edizione serale delle Uno News io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di serata e vi ringrazio